Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi sono qui e vi mostrerò il Colosseo e vi faccio vedere le bellezze di questa bellissima città di Roma mi raccomando ragazzi che rimanete sempre connessi che ogni giorno metterà anche un video e ora andiamo eccoci, arrivati al Colosseo ora andiamo qua, dove facciamo il giro? che spettacolo andiamo qua sotto e ora andiamo qua perché forse è troppo grande e ora andiamo qua ammirate questa bellissima meraviglia non ci pensi che vent'anni che sto qua più volte fa l'alcolosseo ciao ciao tutto cava salva sobra ragazzi vai tendrata eh Grazie. Grazie. In realtà è come 27 anni. Guardate che spettacolo. Guardate. Guardate. Guardate che spettacolo. Che spettacolo. Bello, eh? Non lo so. Scusate. Riccola acqua. Ma sto bene. Rosso. Ragazzi. Sì, c'è stato un po' l'esitore, un po' l'esitore. Ragazzi, oggi è una giornata veramente stupenda, come potete vedere, da questa mattina stiamo girando per farvi vedere questo bellissimo posto, spero che vi piace. Bravo! Grazie! 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 In chiusura io vi voglio ringraziare tutti quanti per la visione di questo video, spero che vi è piaciuto e lasciate un like, attivate la campanellina se il video vi è piaciuto e niente ragazzi, noi ci vediamo direttamente nel prossimo video e bella! Grazie!